Rivolge due appelli accorati Matteo Fortunato, un giovane titolare della Barberia San Matteo situata nel quartiere di Mercatello a Salerno che in segno di protesta e di disperazione ha deciso di alzare la saracinesca del suo salone e ha scritto in uno striscione la motivazione esplicita Io apro, ho fame. Il primo appello che rivolge il barbiere è al governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, al quale il giovane artigiano chiede di riaprire anche un solo clienti alla volta ma di dare la possibilità ad attività come la sua di poter ricominciare. Il barbiere ricorda i sacrifici fatti per adeguarsi alle disposizioni anti-covid, gli investimenti ed il suo salone, odora di alcol ma è anche pieno di immagini di San Matteo, il santo patrono della città di Salerno al quale Matteo ha dedicato anche il suo locale. A lui è rivolto il secondo appello, mi aiuterà di nuovo, dice Matteo, devoto al santo per una richiesta ascoltata che ha salvato il papà. Ma intanto alla fede oggi si accompagna la rabbia. A pochi passi dalla sua barberia sulla spiaggia di Mercatello indisturbati passeggiano tanti cittadini, anche loro contravvenendo a delle regole di contenimento anti-covid come in questo momento il barbiere che ha deciso di aprire. Ma con una differenza in più rispetto a Matteo, sulla cassa non ci sono i soldi dei possibili clienti, ma oltre 9 bollette e 900 euro da pagare. Posso solo dire una cosa, dalla prima pandemia, diciamo a quest'altra seconda chiusura, siamo stati sempre in sicurezza, una persona per volta, appuntamento, igienizzante mani, termoscanner, tutto in sicurezza. Per fortuna, ringraziando anche San Matteo che qua ci protegge, lo abbiamo sempre alle spalle, non ci è mai successo niente, per fortuna. Vi hanno costretto a chiudere dopo tanti investimenti e soldi fatti per adeguare i propri punti alla sicurezza e ora voi chiedete di riaprire. Ci chiediamo di riaprire perché comunque abbiamo famiglia, io personalmente, come credo anche altri colleghi, non ce la facciamo più. Ho 9 bollette ancora ad aprire, partiamo già con 900 euro di debiti perché sono debiti, parlo proprio col cuore e mano. Sono cresciuto nelle barberie, ho studiato poco, però sono troppo le problematiche che noi affrontiamo giorno dopo giorno. Chiediamo solo veramente un appello anche al presidente De Luca che stimiamo molto di darci un'opportunità di una persona per volta perché siamo veramente con il nodo alla gola.